Giorgio! Guarda! Guarda! Cosa c'hai? Giorgio! In questo momento si simpatizza un po' con l'ase Giorgio! Ma ti soffro! Hai davvero? Si! Soffro! Dai! Mi piace avere anche a me la ragazzetta vicino, coccolarla Oh Giorgio! E non è l'unico a darsi da fare in camerata Mi piacciono gli occhi e il carattere soprattutto Samuele è una bella persona, mi trovo bene e ci stiamo conoscendo e sono felice Ma a quell'età si sa, le storie d'amore non è detto che siano per sempre Dai oh, cagami! Ti stavo cagando! No, non come le altre sere, cos'hai? Eh? Che cos'hai? Eh, dopo si va, arrivo Ho pensato oggi che è meglio allontanarci un po', perché dopo Una volta usciti da qua non ci parleremo più Tu hai detto, no, che parli da qua non è che ci incontreremo e tutto, no? Sì Ecco Non è che così dopo, alla fine, stiamo peggio No, secondo me no Eh, secondo me sì Ho preferito un po' prendere le distanze anche se lui è venuta E poi, secondo me Chi demi Io Grazie a tutti